Due morti e tre feriti tra cui un giovane di 23 anni in fin di vita e il drammatico bilancio di tre incidenti stradali avvenuti nelle ultime 12 ore nella provincia terramana. Il più grave sulla statale 16 tra Martinsicuro e Albadriatica. Nel fatale tamponamento hanno perso la vita Graziano Battistella 52 anni di Tortoreto e Marco Iampieri 41 di Albadriatica. A causare l'incidente un inglese di 36 anni rimasto ferito lievemente. L'uomo rientrava da una cena aveva un tasso alcolemico di molto superiore al consentito 312 milligrammi avrebbe anche tentato la fuga subito dopo lo schianto e per questo la procura di Teramo con il PM Laura Colica ha disposto l'arresto per omicidio colposo aggravato. Le vittime si recavano all'imbarco a San Benedetto del Tronto erano le 2.30 della scorsa notte sulla loro utilitaria una polo e piombata ad alta velocità l'Audi Q7 condotta dall'inglese che procedeva nello stesso senso di marcia. Il tamponamento è stato terrificante. La utilitaria è stata lanciata contro il guardrail che ha trafitto e delaniato l'autovettura facendo scempio dei suoi due occupanti. Uno è stato sbalzato all'esterno finendo contro il muro di una casa, l'altro è rimasto intrappolato nell'abitacolo schiacciato dall'Apolo decapitato. Le identificazioni sono state rese difficili proprio dalle pietose condizioni dei corpi. Il tratto stradale è rimasto chiuso per ore sul posto vigili del fuoco carabinieri e ambulanze. A Roseto degli Abruzzi un 23enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo dopo uno schianto contro una pensilina degli autobus sulla statale 150. L'incidente è avvenuto intorno all'uno di notte per causa ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Il ragazzo è in pericolo di vita. Altro incidente, altro ferito grave intorno alle 8 e 30 all'interno della galleria di Colorania, un tir ha travolto una Peugeot ferma al lato della strada, probabilmente per problemi. Il pesante mezzo ha trascinato l'auto per circa 50 metri. All'interno un 39enne che si è miracolosamente salvato ma versa ora in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo. Il tir è finito poi contro il muro della galleria ma il conducente ha riportato solo lievi ferite.